Mister Ferrara, mister, è stata una bellissima finale, forse la sfortuna, ha pagato Lazio. Sì, sì, adesso sono ancora senza parola, però è un peccato, purtroppo loro avevano due risultati a favore, quindi il secondo tempo sull'entrata ci siamo dovuti sbilanciare, in contropiede abbiamo dovuto fare rigore. Bene nel secondo tempo, il primo tempo forse è stato un po' di attesa della squadra del contrato, l'hai studiata bene, nel secondo invece hai immaginato il gioco, hai costritto la squadra di casa a non attaccare quasi mai. Sì, infatti mi sono risolto che il primo tempo mantenendoci un po' equilibrati, un po' più equilibrati in campo, loro ci marcavano in maniera ottima e quindi purtroppo ci serviva la vittoria, ho fatto entrare tre attaccanti e abbiamo giocato di più. Hanno fatto bene anche i sostituti, specialmente Gallo è entrato in partita, poteva fare la differenza, l'ha fatta, però la sfortuna, ripeto, ti è stata cara? Purtroppo il calcio è questo, è una partita secca, non sempre vince chi è più forte, ma merito tanto di cappella al contrato che è stato in vetta tutto il campionato e meritava di vincere il campionato insieme alla Torillo, forse la Torillo era un po' più forte, più completa, però noi comunque non eravamo da meno. È stato un campionato esaltante della Misfitto Soccia, rimbattuta per tutto il 2019 perché la sconfitta è arrivata comunque dopo il novantesimo. Speriamo bene che continui così, i ragazzi ormai ci sono, anche qui sono venuti comunque a far vedere quello che stanno fare in campo, abbiamo fatto la partita, a parte il primo tempo, però comunque abbiamo giocato noi, c'è il fattore campo. Ci abbiamo visto ringraziare i tuoi tifosi giunti numerosi qui a Contrata per sostenervi. Sì, ringrazio tutto il paese perché ci sono stati davvero vicini, anche qui c'erano tutti, c'erano tutti veramente, sono venuti tanti, infatti ho ringraziato loro. Mister Ferrara, questo Misfitto l'anno prossimo potrà giocare in seconda categoria? Assolutamente, sicuramente, questa squadra con qualche innesto, spero che il Presidente faccia qualche innesto importante per fare anche un campionato da vertice. C'è un progetto quindi importante a Monteforte con la sua squadra, che vuole diventare forse la capitale tra Mercogliano e Monteforte, calcisticamente parlando. Calcisticamente, sì, il Mercogliano è sempre stato una bella società, poi ha avuto qualche problema quest'anno. C'è un bel progetto anche per noi, poi le cose si fanno pian piano, anche se già, penso, lunedì ci metterremo al lavoro per organizzarci per il prossimo anno. Con Liotti si sarà protagonista di questa partita poi però, ci sarà anche una spulsione? Vabbè, sono cose che capitano nel calcio. Non pensavo, non è segnato. L'importante è vincere, abbiamo giocato contro una signora squadra, questa è la vittoria del gruppo, un gruppo giovanissimo, un mister straordinario. Speriamo che l'anno prossimo riusciamo a fare un altro buon campionato. Per vincere questo campionato si è restato costretto a due tempi supplementari in semifinale e in finale, quindi un campionato lunghissimo. Eh sì, abbiamo già giocato la semifinale contro il Forino, un'ottima squadra. Poi abbiamo trovato il Misfizio, ancora un'ottima squadra, però il mister ci ha portato alla vittoria di questo campionato che è stato bellissimo. Una dedica particolare per Liotti? Una dedica particolare a tutti i ragazzi minorenni di questa squadra che hanno tirato veramente la carretta, come si so dire. La carretta per far vincere veramente questo campionato, è stato bellissimo. Il mister Bonummo finalmente ce l'avete fatta. Eh sì, ce l'abbiamo fatta dopo un campionato comunque condotto sempre alla grande, per più di metà del campionato eravamo primi, poi purtroppo problemi interni, abbiamo ceduto il posto al Santo Stefano. Però abbiamo sempre condotto un campionato veramente alla grande, che complimenti ai ragazzi perché ci hanno creduto fino alla fine. Nonostante, come dici tu, varie problematiche, comunque sei stato il condottiero al timone di questa squadra e la portata alla vittoria. Ma più che io e il condottiero sono stati i ragazzi che comunque hanno fatto gruppo, hanno fatto gruppo e sono riusciti a portare in porto questo importantissimo risultato che all'inizio nessuno ci credeva. Una squadra nata dal nulla praticamente, ci siamo riusciti a compattare durante gli allenamenti, assidui sempre durante gli allenamenti e finalmente siamo riusciti a portare in porto un risultato, ripeto, inaspettato da parte di tutti. Tanti i tuoi giovani in campo, 2001 Pennetti, 2001 Botticelli che si è conquistato, il calcio di rigore che ti ha fatto andare in paradiso. Noi abbiamo messo in campo dopo quasi la fine del girone di andata, noi abbiamo utilizzato molti giovani, avevamo il portiere 2001, Terzino 2001, il numero 8 2002, l'altro centrocampista 99. Noi abbiamo fatto, è stata proprio la forza di questa squadra, cioè i giovani che poi hanno creduto fino alla fine. Avete affrontato comunque in finale una signora squadra come l'emisferzo Soccer che vi ha messo in grave difficoltà. Ma non solo in finale, noi già avevamo avuto problemi con loro, problemi dal modo di vista calcistico naturalmente, la partita di ritorno che facevamo 2-2 ci mise molto molto in difficoltà. Oggi era una partita secca, però c'era molta qualità anche da parte loro. Una partita di questa categoria, mister, consentimi di dire con un pubblico di altri palcoscenici. E questo fa molto molto piacere, perché il calcio è bello anche per questo, cioè è comune alla gente con uno sport che fa divertire un poco tutti. Se hai una dedica in particolare? Ma no, una dedica in particolare no, una dedica in particolare voglio fare i ragazzi, dico sinceramente, i ragazzi più giovani perché effettivamente ci hanno creduto fino alla fine. La mia dedica è a loro perché hanno creduto in questa squadra, hanno creduto nel lavoro che facevano durante la settimana. Caporale sei stato uno dei protagonisti della partita di questa sera, non è bastata però la tua prestazione per far sì che la tua squadra andasse in paradiso? No, non è bastata purtroppo, c'è stata tutta la volontà da parte nostra, da parte di tutti e purtroppo un po' il caldo, la mentalità e la situazione fisica un po' ci ha danneggiato all'ultimo. Poi quel rigore all'ultimo ci ha spezzato. Hai giocato anche con una cavia malconcia, dobbiamo dire la verità, sei stato in campo finché hai potuto? Sì, è da un mese purtroppo che vado avanti con questa caviglia, infortunio ho dovuto una partita di un mese fa circa, cercando di recuperare però la situazione fisica è quella che è purtroppo. La Misfizio Soccer è un gruppo fantastico, il futuro di Caporale potrebbe essere ancora legato a questa maglia? Sì, sicuramente, sicuramente. Noi abbiamo cominciato l'anno scorso con un gruppo, siamo arrivati fino ad ora con lo stesso gruppo, sempre uniti, sempre insieme. Dobbiamo ringraziare il mister Ferrara, il secondo Alessio Arrighini per questo. Ho visto lacrime Arrighini. Eh sì, molto dispiaciuto, purtroppo ci credevamo tutti, ci credevamo tutti, eravamo convinti di venire qua a vincere la partita e salire di categoria appunto.